a la cazzo alle oggi inizio io forse se porti di ecco vai 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 dimmi buongiorno mi presento un dolce, la mousse di castagne con il gelato che poi mi passerà il cioccolato vado sugli ingredienti? eccomi qua dai parti, descrivi ho detto la mousse di castagne che ho già preparato nel sifone poi spiegherò come l'ho fatta ah vai al sifone oggi, niente fornelli, niente forno il microonde guarda, lascia lì, oggi proprio, lascia lì poi c'è la gelatina al rum bene preparo il biscuit al microonde come dicevamo il cioccolato si poi dopo il caviale il caviale anche il caviale hai fatto no, non è vero no, non è vero e l'altra piccola bull cosa sei lì? qui dopo, queste qui sono le castagne ah, quella che hai messo nel sifone una farfallina con la cialda papillon l'isomalto con l'isomalto con l'isomalto con l'isomalto con il cioccolato con l'isomalto con il cioccolato un grissino al cioccolato adesso ci hai scatenato iniziamo quanto tempo è che ci andiamo indietro noi? eh, è un'oretta forse di più aiuto eh, fai te fai te allora niente, spiego come ho preparato questo probabilmente sono delle castagne che ho cotto dentro il latte con un po' di zucchero un po' di vaniglia poi una volta cotto ho passato tutto il setaccio e ho creato questo purè e ti è venuto questa purè? che poi l'ho inserito nel sifone con la panna con la panna e un po' di zucchero a velo hai una proporzione oppure? una proporzione in genere su 100 grammi di purè di castagne metto 200 grammi di... ok, uno a due allora uno a due ok, perfetto ok, poi dopo quindi il biscuit adesso comincia a lavorare adesso lo facciamo vedere questo è il classico biscuit che possono trovare la ricetta tra i miei video quindi è quella che c'è già pubblicata va bene ecco però la cottura la cottura è... la cottura la faccio al microonde però oh ragazzi una cottura incredibile da fuori di testa ne ha già fatto uno qui già fatto uno per provare morbidissimo e viene meglio il micro che non nel forno eh, alla fine sì sì è anche più... veramente ok, basta un cucchiaio perché me ne serve poco un cucchiaio e andiamo qua c'è direttamente il micro al micro no, nel 30 secondi imitici 30 secondi di sempre alla massima potenza alla massima potenza e lo metti nel piatto tutta sta roba e dopo lo userò sì no no, nel piatto no giusto oggi guardate un po' una bella coppa Martini eccola qui bravo Ale eccola qui l'attrice protagonista è la coppa oggi te la metto lì ok aspettiamo quei 30 secondi 30 secondi sì e vedo delle cose rosse qua stampini rossi ebbè giustamente è Natale questo quello è il caviale che poi dopo spiegare che ha fatto Ale questo l'hai fatto te questo il mio tutto cionco il tuo tutto perfetto mannaggia a te Ale allora suonato 30 secondi sono passati e il biscuit è pronto come si vede ma che roba rimane soft bellissimo bellissimo bravo Ale lo sformo tiro fuori il gelato è troppo presto sì, intanto mi passi il gelato che io lo sformo che si raffredda oh ecco Ale prendi il gelato il classico gelato al cioccolato questa è invece la gelatina al rum che userò come base è una classica uno sciroppo con dentro del rum e un foglio di colla di pesce quindi è semplicissimo ah un paio di fogli sì ok dopo magari metto la ricetta dopo la tanto te sei precisino scrivi sempre tutto gli ingredienti bene Ale adesso andiamo al piatto andiamo a comporre il piatto giusto quindi metto sul fondo un cucchiaio di gelatina eccola lì poi un po' di caviale che gusti hai fatto lì di caviale caro? comunque quello rosso è col melograno e quello arancione con l'arancia con l'arancia bene mettiamo un po' di da un po' di colore poi il biscuit ma qui oggi oggi stai esagerando oggi stai esagerando il biscuit che mi fa da letto alla pallina di gelato niente che nello oggi niente che nello oggi pallina di gelato sì tanto non si vede quindi ok ah è vero perché dopo ci spari sopra la muscia si pone ok 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 qua sei velocissimi siamo quasi e abbiamo quasi fatto sifone ah non fai come me che escludi tutta la cucina ahahah mamma mia di aiuto quel giorno che figura di menta wow wow poi un po' di cacao assomiglia un po' al Mont Blanc eh eh diciamo si che è un po' assomiglia un po' vero il Mont Blanc c'è un po' che stai esagerando nevica un po' di neve ah ha fatto anche qui è vero è vero è vero e poi allora spostiamo tutti questi ingrigniti che ci si vede meglio poi ci metto la filovia lo skillife quello lì lo skillife la farfalla la farfallina l'isomalto l'isomalto mannaggia guardalo è un po' di caviale pure è che dà un po' di colore wow bellino bellino Ale bellino bellino e il luce è pronto come è pronto come è pronto come è pronto hai già finito hai già finito bene chiudo saluto saluto tutti poi faremo i saluti insieme per il natale accendiamo no facciamo il pirotecnico anche se riusciamo se riusciamo e senti lì a posto così la inquadra ancora se la vuoi girare dai gira dai facciamo in serio un po' eh si bene Ale complimenti grazie inquadra un po' anche sotto così per far vedere eh si dai giralo così vedo la stratificazione a posto ok ecco bene qualcosa a dichiarare? no è sempre innocente è sempre innocente adesso state saluti saluto tutti e tutte tutti e tutte le amici e le amiche tutte e tutte ah le amiche adesso adesso a posto cosa faccio dimmi te adesso vedete ci scambiamo la telecamera ah quindi chiudo chiudi pure ciao ciao Ale